ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale youtube di rapaolic torno qui su youtube a parlare con voi a parlare di musica dopo due mesi di inattività da questa piattaforma perché all'agosto abbiamo deciso di comune accordo con i ragazzi della redazione di far prendere a rapaolic un mese di vacanza dopo tre anni di attività costante e a settembre perché appunto ho voluto aspettare il momento giusto per tornare con la nuova stagione e il momento giusto mi sembrava che fosse l'uscita del nuovo disco di salmo del sesto disco di salmo sto parlando di flop il disco che oggi andrò a recensire per voi e che vi andrò a raccontare un disco che arriva in un momento decisivo perché non può non essere un momento decisivo quello dell'uscita e della pubblicazione di uno dei pesi massimi di questo rap game un artista che ogni album che pubblica rivoluziona un po le carte che ci sono sul tavolo io penso per esempio alla sua ultima pubblicazione che è stata quella di playlist nel 2018 che lo ha di fatto consacrato come uno degli artisti rap più rilevanti e più significativi in assoluto playlist arrivava per rivoluzionare è un disco che già con il suo concept e appunto con il suo titolo lasciava intravedere una certa portata rivoluzionaria una certa provocazione era un titolo quasi futurista quasi come i tagli di fontana era un progetto che voleva criticare la tendenza della musica ad aver reso l'album di fatto una compilation di brani sconnessi senza un cuore senza un'anima senza un collegamento senza un fil rouge playlist allora la enfatizzava e salmo proponeva questo approccio alla musica dicendo ok i miei colleghi in generale gli artisti fanno dei dischi sconnessi fanno delle compilation e allora io faccio proprio apposta una playlist faccio un disco che si chiama playlist in cui possiamo trovare il banger esplosivo basato su un basso fortissimo e devastante che è 90 minuti ma anche il pezzo d'amore assolutamente pop assolutamente vincente anche molto raffinato che era il cielo nella stanza il brano finale con questa chiusura notturna del disco che era lunedì il brano un po tendente anche all'atmosfera messicana alla narcos che era sparare alla luna c'era tanta sperimentazione per un artista che ha sempre sperimentato per un artista che è arrivato in italia con la drum and bass portandosi dietro un bagaglio culturale che veniva dal metal e che con il disco precedente a playlist invece aveva portato un disco vero un disco con un sangue con un'anima che era stato elvis back con le sue chitarre infuocate e con i suoi versi incendiari dunque elvis back 2016 playlist 2018 abbiamo dovuto aspettare altri tre anni per il nuovo disco di salmo flop un altro titolone un altro titolo ancora una volta futurista che vuole raccontare un concept perché noi arriviamo dopo tre anni dalla pubblicazione di playlist un successo straordinario un progetto che è stato sì sperimentale ma anche mainstream e poi tra playlist e flop passano tre anni che non sono stati vuoti sono stati tre anni di hit pensiamo per esempio a swing o il featuring di salmo con da supreme a boogie man il featuring di salmo con gali ma ultima ma non ultima per importanza è la canzone nostra con blanco un pezzo che lancia blanco nel mondo dei grandi anzi dei grandissimi perché poi blanco fa uscire un progetto che porta nove tracce su dieci in in top ten film e si piazza al primo posto per tre settimane consecutive e sì è vero il peso specifico della strofa di salmo nella canzone nostra è relativamente basso però ancora una volta salmo che scopre un talento e lo lancia era già successo con da supreme penso a perdonami era già successo con lazza penso a mob anni fa è successo anche con nitro quindi un'altra vittoria per salmo un'altra hit con l'etichetta con scritto salmo e dunque arriviamo a flop carichi di aspettative e chi è che ce le vuole far abbassare proprio l'artista proprio salmo perché chiama il disco flop e lo annuncia con una comunicazione molto molto provocatori ancora una volta è da un po che salmo gioca molto sul comedy sul voler ironizzare e allora dice che questo flop sarà il suo peggior disco onestamente mi sento di criticare questo questa forma di comunicazione perché dopo playlist che era stato un progetto con questo titolo paradossale anche grottesco con la sua cover disegnata a mano da un bambino forse era il caso salmo un artista di 37 anni un artista che ha dimostrato negli anni di essere un peso massimo una leggenda di questo di questo rap game uno sicuramente dei dieci rapper più importanti della storia di questo genere musicale per non esagerare per tenerci bassi con con le percentuali ma secondo me forse era il caso di concentrarsi a 37 anni su su un tipo di comunicazione e un tipo di concept un po diverso soprattutto perché poi e questa resta una delle grandi criticità di questo progetto che adesso analizzeremo e sviscereremo flop è un disco che non affronta il concept del flop se non con una skit e con un brano che poi è la title track che è la penultima traccia del progetto dunque entrerai nel vivo che tipo di disco è flop è un grande disco salmo non sbaglia mai salmo è un grande artista e fa solo grandi dischi musicalmente stiamo parlando di un prodigio di un fenomeno dell'artista vocalmente migliore del rap italiano un artista che canta così bene nel rap italiano non esiste tutti gli altri artisti per arrivare a determinate melodie devono utilizzare necessariamente l'autotune salmo non fa parte di questa categoria salmo canta e arriva a portare delle melodie che non si sono mai sentite salmo è sperimentale questo disco molto sperimentale anche se rispetto ai precedenti è un pochino di meno penso del disback che aveva rivoluzionato tutto penso ad usb aver portato la dubstep in italia penso a playlist che aveva basato tutto sulla sperimentazione aveva puntato tantissimo sulla sperimentazione questo però è un disco che comunque si apre con un brano che è antipatico tutto rappato tutto di barre c'è addirittura la citazione ironica a bassi maestro c'è una citazione invece meno ironica e più più solenne invece a neffa poi c'è una prima parte di album assolutamente trap gestita da andry date maker un producer che in pochi si aspettavano che avrebbe avuto un ruolo del genere nel disco di salmo e a me l'accoppiata andry salmo è piaciuta particolarmente perché io sono sono un apprezzatore sono un estimatore di andry date maker mi piace molto il lavoro che porta avanti con jaime mi piace molto il lavoro che porta avanti anche con vegas jones però con salmo l'ho trovato innovativo perché salmo ha dato alla trap di andry date maker togliendo l'autotune togliendo un certo tipo di metrica e prendendola come solo salmo saffare credo che che abbia di fatto creato un nuovo modo di interpretare un certo tipo di beat e mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto anche il fatto che il disco non abbia un suono unico si pone a metà tra tra quello che è appunto elvis back perché questo è un disco senza singoli è un disco che non ha singoli di fatto ma non ha nemmeno singoli molto più forti degli altri non ha quindi i singoli fortissimi di playlist però allo stesso tempo non è un disco che ha un suono omogeneo come quello di elvis back perché passa appunto dalla trap con andry date maker ai brani rappati penso all'antipatico penso al pezzo in cui si incontrano due mostri sacri della scena e due mostri sacri del rap fatto in un certo modo ovvero ghigliottina salmo noi narcos forse il brano più più entusiasmante del disco c'è un episodio country blues che la traccia addio di cui adesso parliamo nello specifico quando parleremo dei testi e ci sono degli episodi che vanno sulla cassa dritta a un certo punto ci sono degli episodi che riportano le chitarre un po di elvis back c'è addirittura una traccia che si chiama elvis back 2 che riporta un po in quel mondo in quel mondo magico poi che che aveva dipinto salmo addirittura c'è una parte del disco poi che va nella direzione ed il cielo nella stanza per esempio le tre tracce che la ricordano di più sono come te marla e l'angelo caduto non tanto a livello sonoro quanto a livello di atmosfera sono tre brani romantici sono tre brani che parlano una lingua più eterea rispetto a un disco che per il resto si pone si propone come violento come provocatorio come disco di barre taglienti e dunque credo che sia stato a livello musicale davvero un progetto di buon livello io ho visto che la critica si è schierata in maniera abbastanza netta a favore di questo disco esaltandolo secondo me è un buon disco con delle criticità abbastanza significative però prima di trarre queste conclusioni vorrei affrontare l'aspetto lirico perché salmo è un grande artista e ha scritto un grande disco anche qui c'è poco che possiamo dire a livello qualitativo cioè questo è un progetto in cui tutti i brani portano avanti lo stile un po' alla Elvis Beck cioè brani di barre scritte un po' a flusso di coscienza volendo un po' provocare un po' citare ci sono tantissime citazioni in questo progetto ma in generale nella discografia di salmo qui ce ne sono tre che sono particolarmente rilevanti che sono appunto quella di Neffa che citavo in precedenza quella Fabri Fibra, L'uomo nel mirino, Mi sento bene e infine quella Gio Cassano in secondo luogo poi è un disco in cui salmo è maturo al 100% a livello di rap cioè fino ad Elvis Beck salmo aveva sempre proposto un tipo di rap molto sporco molto lontano dal gioco metrico e dal tecnicismo con Elvis Beck cambia tutto da questo punto di vista perché in Elvis Beck penso per esempio a 7 a.m. è un pezzo dove salmo diventa super tecnico, incasseri di parole, giochi di parole, rime quadruple in questo disco l'ho fatto, in questo disco ci sono giochi di parole fin dalla prima traccia bel thriller, ben stiller e in Elvis Beck 2 c'è la rima schiavi tu, finché non hai schiavi tu insomma un po' sul wordplay alla Lazza, alla Jack the Smoker, alla Danny Five e mi ha colpito di gusto questo perché vuol dire che salmo a livello tecnico è in forma a livello musicale è in grande forma, ha sperimentato tanto, ripeto un pochino meno rispetto ai dischi precedenti ha prodotto un buon disco facendosi accompagnare dalle persone secondo me giuste l'unica scelta un po' azzardata è stata quella di Takaji e Ketra per Kumite che è un brano che non funziona a mio parere perché è un brano che suona un po' costruito specialmente dopo che salmo si scaglia contro il suo successo del cielo nella stanza chiudendo il circo nella stanza e poi ripropone un brano come Kumite che tra l'altro non ha la stessa qualità del cielo nella stanza che era stato un grande pezzo Kumite non ha la stessa forza, ha un ritornello per carità molto catchy però suona molto costruito invece brani come L'angelo caduto e come Marla dimostrano l'abilità di scrittura di salmo che appunto in Marla per esempio ruba un fotogramma io Marla la inserisco nella collana di canzoni di salmo dedicati alle donne come ritrattista parlo di Yoko Ono, parlo di Black Widow non sono brani semplici sono brani in cui la poesia di salmo diventa scura diventa difficile da leggere diventa molto appassionante assume dei contorni di chiaro scuro insomma sono dei brani di grande qualità questi e secondo me Marla va ad inserirsi in quella collana e L'angelo caduto è un brano molto emozionante che tra l'altro mi permette di approfondire il tema dei featuring benissimo Noiz Narcos straordinario Noiz Narcos veramente una performance e un duetto con salmo veramente di grande qualità che mi ha ricordato molto Stai Zitto che era il brano di playlist di salmo e fibra però credo che se in Stai Zitto potevamo discutere veramente mesi e mesi su chi avesse ripato meglio e chi fosse stato più entusiasmante nel brano tra salmo e fibra credo che qui in ghigliottina ci sia veramente poco da confrontare Noiz Narcos è stato eccezionale e secondo me superiore a salmo e dobbiamo riflettere su questo anche perché Marrakesh arriva in un brano in cui salmo fa solo il ritornello Guay Pechegno dà una strofa normale a salmo Marrakesh gliene dà una straordinaria ma non c'era alcun dubbio e ci sono delle scelte di salmo in questo disco per esempio accettare una strofa alla Guay Pechegno di Guay Pechegno niente di straordinario accettare il fatto che Noiz Narcos sia superiore a salmo in un pezzo le ho trovate scelte non alla salmo e questa è la mia grande criticità nei confronti di questo progetto cioè questo è un grande progetto secondo me un progetto sicuramente almeno da 7 e mezzo però quando andiamo a paragonarlo a Midnight a The Island Chainsaw Massacre a Playlist e a Elvis Back è evidente che abbia qualcosa in meno Flop è un buon progetto però non ha il concept che aveva Midnight che aveva Island Chainsaw Massacre che aveva anche Death USB a modo suo cioè il tema del flop viene analizzato in due brani e uno è una skit una splendida skit dell'attore Joseph Atvagni però tutto il resto del disco si muove su binari abbastanza sconnessi l'uno dall'altro è un po' un disco playlist è proprio quello che Salmo criticava un paio di anni fa no? e tra l'altro mi sento di portare avanti anche un'altra critica Salmo ha 37 anni alcune liriche blasfeme è un po' difficile ascoltarle da un artista con la sua maturità quando si ascolta un brano come Addio il riferimento a un pezzo come Lettera dall'inferno di Amy Schilla è immediato sono due pezzi molto simili Lettera dall'inferno è un brano di Mercurio un disco del 2013 il secondo in assoluto di Amy Schilla ed è un'altra lettera a Dio tra l'altro trattata comunque con una serietà diversa senza bisogno di fare la rima provocatoria molto fine a se stessa la differenza è che quando Amy Schilla scrive Lettera dall'inferno ha 23 anni Salmo immagini a 37 e rime come quella su Padre Pio in Che ne so lasciano veramente il tempo che trovano e si commentano abbastanza da sole ultima riflessione su questo progetto e questa non è una criticità ma è uno spunto dopo aver avuto un ruolo così importante nella campagna a favore della riapertura del ritorno della musica dal vivo forse sarebbe stato un concept più interessante quello sociale per non dire politico ma sicuramente sociale rispetto al concept del flop che poi non è stato affrontato è stato tenuto solo per due canzoni dunque traendo delle conclusioni va detto che questo è un buon disco sicuramente uno dei migliori tra quelli usciti quest'anno se in questo momento dovessi fare la top 3 dei progetti rap usciti quest'anno sicuramente Salmo sarebbe sul podio tuttavia per quello a cui ci ha abituato negli anni passati rivoluzionando sempre con ogni progetto portando sempre i progetti dal valore e dal peso specifico molto alto forse era lecito aspettarsi qualcosa di più non dico che flop sia un flop assolutamente dico che forse però a questo punto della discografia di Salmo e della sua carriera ci aspettavamo un progetto che potesse veramente rivoluzionare ancora una volta tutto in ogni caso si parla di un altro buon disco e di un progetto che sicuramente è destinato a farsi largo nelle nostre playlist nelle nostre cuffiette e nelle nostre casse questa era la mia recensione di flop il sesso disco di Salmo e noi ci vediamo in un prossimo video ricordatevi di mettere un mi piace di lasciare un commento in cui esprimete la vostra opinione di seguire la pagina Instagram e vi ricordo che da quest'anno tutti i lunedì dalle 2 alle 3 noi ragazzi di Rapolic siamo live su Radio Sonica e quindi ci potete ascoltare e parleremo di tanti argomenti tra cui anche il disco di Salmo quindi non ve li perdete questi appuntamenti settimanali e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti